Si parte, il primo pallone di questo Brescia Verona è delle padrone di casa, Mele, gioca all'indietro verso Dada. Pallone sulla sinistra, Linari. Pannone lungo di Criscio in anticipo su Girelli. Pallone a sinistra, Fuselli. Cerca il tocco in verticale verso Bonetti che ha tagliato verso il centro del campo. C'è l'intervento da parte di Pasini che perde palla sul pressing da parte di Mele. Riconquistato palla il Verona. Il pallone lungo da parte di la terza. Riparte il Brescia con Gama. Il pallone lungo per la corsa di Sabatino su di lei, va di Criscio. Sabatino riesce a mettere giù questo pallone, si propone Bonansea. Accorcia su di lei Fuselli. Bonansea, il tunnel immediato e poi salta un altro avversario. Attenzione a Bonansea. Subito il cross in mezzo! La traversa e pallone che esce dallo specchio della porta. Incredibile occasione per il Brescia dopo un minuto e dieci con Cristiana Girelli. Non ci sarebbe stato nulla da fare per Rachel Harrison. Rivediamo qui Bonansea, il numero prima su Fuselli, poi sulla terza il pallone in mezzo. Sul primo palo si è avventato a Girelli, pallone che rimbalza lontano dalla linea di porta. Quindi immediatamente un'occasione incredibile per il Brescia che ha fatto capire subito che vuole imprimere un'accelerazione importante a questa gara. Nel frattempo c'è il pressing vincente su Mele, poi recupera il pallone Rosucci sull'attacco di Nichele. Il pallone in profondità per Bonansea. Bonansea, il pallone in mezzo per Sabatino! Traversa! E pallone fuori! Secondo minuto che scade in questo momento. È ancora un'occasione incredibile per il Brescia. Negli spazi sta facendo malissimo. Qui Bonansea, il pallone per Sabatino che trova un tocco morbidissimo ma non abbastanza per superare Harrison. In uscita disperata sull'attaccante in maglia numero 9. Verona che chiaramente deve riuscire da parte sua a superare Indenne i primi 10-15 minuti dove senza dubbio il pressing del Brescia sarà asfissiante. A centrocampo dove sono localizzati problemi maggiori per il Verona. Coppia centrale formata da Ledri che sicuramente non è una regista. Può adottarsi a mediano ma stare in quella posizione non è certo il suo pane quotidiano. E poi la giovanissima Nichele. Aggregata in prima squadra per ovvie necessità di cui abbiamo parlato lungamente nella pre-partita. Gama. Il pallone in profondità di Griscio di testa ci mette una pezza. Poi Nichele tocca per Fuselli. Pallone impreciso. Bonanzialo copre. Si prende la rimessa. Con le mani Bonanzea. Si fa vedere al Borghetti. Lungo il suggerimento invece verso Sabatino. Conquista 5 metri. La formazione di Milena Bertolini. Che andrà con le mani ancora con Barbara Bonanzea. Si fa vedere Gama. Bonanzea sceglie ancora il pallone lungo verso Sabatino. E si va avanti così stile rugby. Ecco la inquadrata Daniela Sabatino. Ha avuto il pallone per portare in avanti il Brescia. Ma la traversa gliel'ha negato. La rimessa è Bonanzea per Sabatino. Il passaggio di ritorno. Bonanzea cerca lo spazio per il traversone. Basso arriva Harrison. Che sostituisce l'infortuna da Oxstrom. Portiere svedese della GSM. Che ha subito la frattura di un piede. Anticipata Nichelle dall'intervento di Girelli. Si ricomincia da Dada. Poi Rosucci. Verticale per Sabatino. Tentativo di dai e vai con Girelli. Pallone impreciso. Respinto la defesa della Verona. Alborghetti. Poi Girelli. Trova la profondità per la velocissima Bonanzea. 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 Entra in area. Il passaggio all'indietro per Sabatino. Che non trova il pallone. Pirone. Tocca all'indietro per Nichelle. Pallone troppo lungo per Pasini. Linari. Mele. Verona un po' lungo sul campo. Quando si trova a dover risistemare le situazioni in campo. Girelli. Poi trova Williams. Il pallone in mezzo. Troppo lungo per Bonanzea. Messo fuori dalla difesa. Rosucci anticipa Bonetti. Poi Alborghetti. Fuselli. Non si lascia sorprendere dal tentativo di dribbling. Ancora Alborghetti. Il prossimo mezzo. Harrison. Pressione della Brescia. Importante in questi primi cinque minuti e mezzo. Verona che già in due occasioni ha rischiato di capitolare. Pirone allunga la traiettoria di questa palla. Facile per Marchitelli. Andiamo a bordo campo. Beatrice. Come stanno vivendo i due tecnici questi primi cinque minuti? Milena Bertolini ha chiesto alla sua squadra di essere più cinica, sottoporta e più determinata. Infatti le due occasioni non le sono proprio andate giù. Mentre dall'altro lato Longega sta richiamando molto la difesa ed ha inveito molto contro le proprie giocatrici le quali si sono fatte trovare impreparate in due occasioni. Grazie Beatrice. Intanto c'è un fallo a metà campo da parte di la terza su Girelli che ha coperto il pallone. E ha subito il contrasto. Punizione già battuta. Bonansea sulla destra molto coinvolta in questi primi minuti. Sembra essere in grandissime condizioni al numero 11 delle rondinelle. Intervento di Pirone su Linari. Che era andata in anticipo. Ha subito il contrasto irregolare da parte dell'attaccante napoletana. Ex-Rest Roma Williams è nello spazio per Sabatino che ci ha creduto un po' poco. E allora Harrison può uscire e prendersi il pallone. È pronta a rinviare il portiere scozzese del Verona quando siamo entrati nel minuto 8 di questo primo tempo. La grafica recita 0-0 fra Brescia e Verona. Ma il Brescia ha avuto già due occasioni importantissime per portarsi in vantaggio. nei primi due minuti di gioco. Rimessa laterale per il Brescia con Linari. Tocco corto, Rosucci. Sbaglia il passaggio di ritorno. Allora può cercare di imbastire un'azione offensiva. Il Verona dalle parti dell'area presidiato da Marchitelli. Belfanti con le mani. Bonetti viene a prendersi il pallone. Sbaglia il controllo e viene bruciato da Rosucci. Sabatino, Mele, decide di ricominciare. con calma il Brescia. Marchitelli per Gama. Va ad accorciare Pirone. Lancio lungo di Gama. Termina direttamente fuori. E quindi sarà rimessa per il Verona. Bonansea, Girelli. Il tocco all'indietro per Alborghetti. Si cambia lato, Dada. Linari. Tocco centrale verso Alborghetti. Poi Girelli, Rosucci. Stop un po' così, ma alle sue spalle c'è Linari. Ancora Rosucci. Sulla sinistra Williams. Tocco per Girelli che cerca lo spazio per la conclusione. Accorcia su di Lady Griscio. Molto bene. Glielo impedisce. Può ripartire il Verona con Fuselli. Lancia in profondità per la velocità di Bonetti. In largo vantaggio c'è Dada. Appoggia all'indietro per Marchitelli. Linari. Rosucci. Sulla sinistra Williams. Sabatino. Controllo approssimativo. Viene bruciata da Pasini. Poi l'Electrici entra Rosucci. La Williams decide di ricominciare. Linari. O i Rosucci. Per Sabatino. All'indietro Williams. Il lancio verso la profondità per l'inserimento di Mele. Pallone troppo lungo di Griscio. Copre l'uscita da parte di Harrison. Rinvio di Harrison. Nichele. Pallone lungo verso Fuselli. Copertura c'è Gama. Pallone che termina direttamente sul fondo. Dieci minuti. Stiamo per entrare nell'undicesimo di questo Brescia-Verona. Diciannovesima giornata del campionato di Serie A femminile. Quart'ultima giornata di campionato. Bonetti. Il pallone largo per Fuselli. Ma ha coperto bene la traiettoria Bonansea. Ledri poi. Brucia Rosucci. Offre il pallone a Valeria Pirone. Che viene stesa da Dada. Calcio di punizione per le giallo-blu. A terra Valeria Pirone. Rivediamo. Qui è netta l'irregolarità da parte di Dada. Che non ha trovato il pallone. Ecco. Abbiamo rivisto anche dalla camera bassa. Intervento da parte della centrale di Milena Bertolini. Che è steso l'attaccante. In maglia gialla. E quindi si prepara Federica Di Crescio. A battere questo calcio di punizione. Lei ha un tiro molto potente. Vedremo se cercherà direttamente la porta. Da come ha sistemato la palla. Pare proprio di sì. Sistemato la barriera Marchitelli. Tutto pronto. Ecco il fischio da parte del direttore di gara. Parte di Crescio col destro. Marchitelli. In calcio d'angolo. Sporca i quantoni. Chiara Marchitelli al minuto 12. Con questo calcio di punizione. Molto ben piazzato da parte di Di Crescio. Rivediamo. Sotto la traversa. Parata non semplice. Per un portiere esperto. Come Chiara Marchitelli. E quindi calcio d'angolo. C'è Ledri sul pallone. Movimento in area. Bonetti come sempre. Taglia sul primo palo. Poi al Borghetti. Nichelle rovescia questo pallone. Poteva essere interessante. Mette fuori la difesa del Brescia. Poi Bonanzea allontana centrocampo. C'è Squizzato come ultimo uomo. Va a esplorare la fascia sinistra. Colpo di testa di Gama su Pirone. Poi al Borghetti. All'indietro. Dadda. Ricomincia il giropalla del Brescia. Linari per Mele. Fa salire Williams sulla sinistra. All'indietro Linari. Dadda. Al Borghetti. Rischia con Fuselli. Poi serve Rosucci. Girelli. Al Borghetti. Pallone per Bonanzea. Che ha cercato un'altra volta il tunnel sulla terza. Che stavolta non c'è cascata. Pallone servito in mezzo verso Bonetti. Il pallone lungo da parte di Fuselli verso Pasini. Belfanti. In verticale per Bonetti che riesce a far passare questo pallone verso Pasini. C'è l'intervento in scivolata da parte di Linari. Che spezza la trama delle ospiti. Belfanti con le mani verso Pasini. Che non controlla sull'attacco di Williams. E allora sarà rimessa laterale per le padrone di casa. Il pallone di Linari per Sabatino. Rosucci. C'è spazio per Al Borghetti in mezzo al campo. In seguita da Bonetti. Pallone arriva Bonanzea che quando prende velocità... Spesse volte passa. Stavolta no. Ancora un buon intervento da parte della terza. Che adesso si lancia in contropiede. Si deve fermare perché c'è poco movimento da parte delle compagne. E poi Michele. Cercato il lancio in profondità. Per Pirone che comunque si spende nell'intervento. Per tenere questo pallone in campo. Ha steso Linari. Abbraccio fra le due. Questo è il direttore di gara. Ecco rivediamo. Cercato l'intervento disperato. Pirone ha trovato solamente Linari. Nulla di grave. Colpo di testa di Williams. Poi Michele per Bonetti. Rosucci. Bonanzea sulla destra. Attende il movimento da parte delle compagne. Poi Rosucci ancora cerca Williams. Ottima la copertura. Ma Sabatino poi... Ha cercato nuovamente l'esterna inglese. Trovata in questo caso in posizione di fuori gioco. Quando siamo ormai al quindicesimo minuto. Sempre 0-0. Due occasioni clamorose per il Brescia. Un calcio di punizione di Di Crescio per il Verona. Adesso formazione di Longega. Che sembra aver trovato perlomeno un po' più le distanze sul campo. Primi cinque minuti da incubo per la formazione ospite. Con le mani Linari. Dai vai con Mele. Linari spazza via. La terza. Cerca il suggerimento in profondità verso Fuselli. Pallone troppo lungo. Gama copre l'uscita di Marchitelli. Che non perde tempo. E lancia Bonanzea. Questa è Milena Bertolini. La copertura di Nichele su questo passaggio in profondità. Non c'è fallo di Rosucci. Che lancia subito in verticale Sabatino. C'è l'anticipo da parte di Di Crescio. E poi la terza. Ottimo intervento. Con grande sangue freddo. Belfanti. Pallancia in profondità. Qui. Pirone. È chiaramente svantaggiata su Linari. Poi ancora Belfanti. Pirone stavolta servita sulla corsa. Poi trova una deviazione. Sarà rimessa laterale per la formazione ospite con Belfanti. Pannone lungo. L'intervento di Williams. Solo per un attimo. Poi Linari. Pasini si prende la rimessa. Sale Belfanti per battere la rimessa con le mani. Siamo dentro il diciassettesimo minuto. Bonetti esce dall'aria a prendersi questo pallone. Pasini un po' pigra nell'andare a cercare la palla. Di Crescio molto bene su Girelli. Fischiato fallo da parte del numero dieci del Brescia. Calcio di punizione già battuto. Squizzato. Rivediamo qui. Era andata in anticipo Federica Di Crescio. E poi si è aiutata con le braccia Cristiana Girelli. Arriva l'incitamento da parte del pubblico numerosissimo questo pomeriggio al Club Azzurri di Monpiano. C'è davvero il tutto esaurito. Qui Gama trova il pallone per un attimo. Ancora Verona con Bonetti che fa la conclusione col destro. C'è stato il contrasto da parte di Rosucci ma poi il fallo della centrale di centrocampo del Brescia e della Nazionale. Rivediamo qui Bonetti. Primo contrasto. C'è una specie di dai e vai con Ledri. La telecamera si è spostata e poi c'è stato il tentativo di tiro da parte di Bonetti con il contrasto da parte di Rosucci. Il direttore di gara ha optato per il calcio di punizione. Ecco rivediamo. Diciamo molto al limite. Ci può stare il calcio di punizione. E allora un'altra occasione importante per il Verona vista anche la capacità mostrata prima da Federica Di Crescio. Però su questa palla sembra molto più intenzionata Michela Ledri ad andare alla conclusione. C'è Di Crescio, c'è Ledri, c'è Fuselli. Arriva il fischio dell'arbitro. Parte Ledri col destro. Marchitelli. Rischia tantissimo sul rimbalzo. Alla fine è calcio d'angolo ma ancora una volta Verona pericolosissimo su questa pallina attiva. Rivediamo. Ledri ha cercato la potenza. Marchitelli forse un po' troppo sicura. Il pallone gli ha sfuggito anche perché lì il terreno non è regolarissimo. Nel cuore dell'area di rigore. Calcio d'angolo. Ancora Ledri sul primo palo. C'è stato il colpo di testa da parte di... Da parte di la terza. E poi il pallone per Marchitelli. Brescia squadra fortissima sui calci piazzati. Soprattutto sui calci d'angolo. Ricordiamo nella vittoria contro il San Zaccaria. Tre gol arrivati tutti e tre di testa. Qui intanto Bonanzea. Il tocco per Mele. Mele. Minuto venti. Passa avanti il Brescia con Elisa Mele. L'assistenza fantastica da parte di Bonanzea. Presa completamente in contropiede il Verona. Che si stava ancora sistemando dopo il calcio d'angolo battuto a favore. E ancora una volta Elisa Mele si è dimostrata bravissima sugli inserimenti senza palla. Qui non ha lasciato scampo a Harrison. Ancora il grandissimo passaggio in profondità da parte di Bonanzea. Il tocco poco dopo il limite dell'aria da parte di Mele. Questa la gioia sulla panchina del Brescia. Andiamo a bordo campo. Come è stata vissuta questa rete? Milena Bertolini ha esultato come se fosse stato il suo il gol per questa centrocampista che lei ha fatto crescere e lei ha fatto esordire in Serie A. Mentre dall'altro lato Longega è rimasto in silenzio. Come è in silenzio da molti minuti. Non trova molte parole e molte indicazioni da dare alle giocatrici se non qualche incitamento sporadico. Sicuramente il Brescia ha realizzato quello che stava chiedendo da molti minuti. Bertolini la quale ha chiesto alla squadra di ripartire in modo più veloce e alle sue attaccanti di essere più cini che sottoporta. Abbiamo visto proprio come in una ripartenza veloce da una situazione difensiva di calcio d'angolo è riuscita ad allungare a dismisura la formazione del Verona che non ha più tenuto la linea. L'inserimento senza palla del centrocampista era quasi scontato. Ottima comunque la visione di gioco da parte di Bonanzea e il tempo di inserimento di Elisa Mele che come dicevi tu Beatrice poco fa è stata una vera e propria invenzione di Milena Bertolini. È entrata in campo ad inizio girone di ritorno possiamo dire così contro la Fiorentina un gol all'esordio e poi non è praticamente più uscita dal campo. Una giocatrice davvero molto importante sia in fase difensiva che in fase propositiva. E questo pomeriggio ne abbiamo avuto un assaggio vedremo adesso il Verona se saprà in qualche modo rimontare oppure se il Brescia approfitterà del possibile contracolpo psicologico. Siamo a metà di questa prima frazione il Brescia è passato in vantaggio. Rosucci il pallone per Linari Pallone di ritorno Rosucci in mezzo a due riesce a far passare questo pallone per Sabatino si muove Mele ancora in posizione centrale il suggerimento però è per Alborghetti che cambia campo si va da Bonanzea che converge verso il centro attenzione Bonanzea il pallone in mezzo a Sabatino il miracolo di Harrison Il miracolo di Harrison che salva la porta del Verona vedremo adesso se dal replay la conclusione era come sembrava un po' centrale qui ancora l'assistenza fantastica di Bonanzea qui c'è andata col ginocchio Sabatino però il riflesso da parte di Harrison è stato straordinario Calcio d'angolo già battuto il colpo di testa di Girelli 2 a 0 L'avevamo detto poco fa il Brescia squadra fortissima sui calci d'angolo e ancora una volta Girelli non ha lasciato scampo al portiere avversario Minuto 23 Brescia 2 Verona 0 Il cross di Williams il terzo tempo di Girelli però completamente da sola ha staccato l'attaccante del Brescia della Nazionale niente da fare per il portiere scozzese del Verona che poco fa aveva salvato la propria porta Riparte il Verona adesso si fa davvero dura per la formazione di Renato Longega che rimane in piedi nella sua area tecnica Certo bisogna dire che insomma le attenuanti per questa squadra sono comunque molte perché sostanzialmente ha mezza squadra titolare fuori Insomma regalare una giocatrice comunque come Melania Gabbiadini non è sempre semplice Quell'intervento di Mele sulla corsa di Ledri che come sempre si spende tantissimo in tutte e due le fasi Con questa una rimessa laterale Belfanti l'anticipo di Linari su Pirone Pallone fuori Intervento dell'arbitro per un problema forse per Linari che ha subito un contatto da parte di Pirone Andrà con le mani Belfanti Ancora un chiarimento tra il Borghetti capitano di giornata nel Brescia manca Valentina Cernoia Intanto Pirone si spende una splendida rovesciata Pallone sul fondo Approfittiamo quindi linea alla regia mini spot Il rinvio di Chiara Marchitelli Che su un calcio di punizione di Di Criscio ha salvato la porta in uno successivo da parte di Ledri ha rischiato di combinare il pasticcio Però per il momento il risultato come recita la grafica è abbastanza eloquente Siamo al venticinquesimo E il Brescia conduce per 2 a 0 Gama accorcia su di lei Fuselli Pallone centrale verso Rosucci Un po' alla cieca L'anticipo di squizzato Poi Linari all'indietro di testa Per Marchitelli Pallone in mezzo al campo Girelli Poi il tocco di Gama in profondità verso Sabatino Per un attimo riesce a controllare il pallone Poi all'indietro di Criscio per Harrison Il lancio lungo Bonetti di testa Prima di Dada Alle sue spalle comunque c'è Gama Buona ansea Ancora all'indietro Rosucci Nel frattempo ci arriva il vantaggio della Fiorentina In casa contro il Luserna La rete è di Bettatona Tutti 0 a 0 Invece sugli altri campi Ricordiamo Rivera di Romagna Tavagnacco Bari Res Mozzanica San Zaccaria Fiorentina Luserna Come abbiamo detto Sbloccato il risultato per le Viola Con un gol di Elisabetta Tona E poi Vittorio Veneto Su Tirolla Di Criscio Pallone in verticale per Pasini Attaccata da Williams Riesce comunque a far passare questo pallone Ledri Pirone Bello questo duello con Linari Alla meglio Il difensore In maglia azzurra Rimessa già battuta Il dai e vai con Mele Linari è costretta a rincorrere questo pallone Lancio lungo Girelli Anticipa Sapatino Quindi squizzato Lancio lungo Gama Imprecesa di testa Concede rimessa In zona offensiva Per il Verona Fuselli Bonetti Che manca il controllo Poi Dada Per Gama C'è L'anticipo da parte di Fuselli Che va verso la bandierina Bene Fa passare questo pallone per Bonetti Che cerca il traversone C'è l'opposizione da parte di Dada Poi Gama Deviazione di Fuselli La rimessa sarà per il Brescia Abbiamo visto Milena Bertolini Comunque sempre dentro la partita Sempre molto presente Nonostante il doppio vantaggio Lascia correre il direttore di gara C'era stata Una spinta Ai danni di Fuselli Fa questo lancio lungo Chiaramente è il modo peggiore Per servire attaccanti veloci Ma non di grandissima statura Come Pirone e Bonetti Quindi il Brescia può ripartire Linari Rosucci è coperta E allora si ricomincia Il Brescia se lo può permettere Al Borghetti scambia con Gama Poi Dada Si torna a sinistra Da Linari Pallone per Williams Rosucci A tempo di alzare la testa Girelli Salta Michele Poi al Borghetti Il pallone Verso Mele Che però Rientra da una posizione di fuorigioco Che è riuscita a tenere La linea compatta La GSM Verona E a mettere in fuorigioco Elisa Mele Che Quanta inserimenti Questo pomeriggio Ha sicuramente Un preciso compito Da rispettare Che gli ha affidato Milena Bertolini L'ha vista inquadrata Tatiana Bonetti Fino adesso In questo pomeriggio Difficile per lei Pochi palloni giocabili Qui Fuselli Suggerimento per Pirone Che ha cercato il controllo Invece di andare A cercare la corsa Verso questa palla E allora può ricominciare Il Brescia con Linari Adesso che si sono Abbassati notevolmente Brescia non ha Comunque la La velleità Di accelerare Il compito adesso Spetta al Verona Vedremo se ne avrà La forza Più che altro Michele In mezzo al campo Evita Gama Il suggerimento Verso Fuselli C'è il passaggio Di ritorno Sarà rimessa Laterale In favore Delle ospiti Sul pallone C'è Silvia Fuselli Bonetti Cerca il tocco Su Pirone Bonansia Fa buona guardia E poi lancia in profondità Girelli Di Griscio Di testa Senza rischiare Verso Harrison In questo momento Con questi risultati Che stanno maturando Brescia 48 Fiorentina 43 Mozzanica 42 Verona 41 Rimessa con le mani Gama Bonetti Anticipa Bonansia Attenzione a Pirone Che salta Con un sombrero Dada Poi torna Su di lei Gama Deve stare attenta Alla retereguardia Del Brescia Perché Valeria Pirone È pericolosissima Negli spazi Generosissima L'attaccante napoletana Eccola ancora Contendere il pallone Con Gama C'è stato un contatto Attenzione Fuselli Cerca la conclusione Col destro Facile La presa Di Chiara Marchitelli Si ricomincia Da Linari Scambio con Rosucci Poi Dada Al Borghetti Sale Gama Girelli Spalle alla porta Per Al Borghetti Poi Bonansia Ancora Al Borghetti Deve salire Il pressing Del Verona Deve salire L'intensità Dei movimenti Delle ragazze Di Longega Se vogliono portare via Il pallone In posizione pericolosa All'avversario E qui Nichelle Accorcia molto bene Sul movimento Di Sabatino Pasini Un po' pigra Si lascia togliere Il pallone Dal ritorno Di Paige Williams E quando siamo Dentro del 32esimo Ricomincia A testere La sua tela Al Brescia Gama Passato in vantaggio Il tavagnacolo Nel frattempo A Cervia Sul Riviera di Romagna Bonansia All'indietro Dada Linari Rosucci Sulla sinistra Per Williams Di prima Il pallone Per Mele Non c'è Il tocco Di Di Griscio Che era andata In tegel La rimessa Sarà per il Verona Colpo di testa Di Ledri Poi Belfanti Col sinistro Male Mele Prende la mira Al tiro di Mele Harrison Sembrava in ritardo Forse aveva calcolato La traiettoria Di questo pallone Che comunque È sfilato Non di molto Lontano dai pali Rivediamo La conclusione Di Elisa Mele Qui Michele Piedi Poco educati E una durete Ad aver portato In vantaggio Le ragazze Di Sara Di Filippo Del tavagnacco Sul campo Di Rivera di Romagna Break di Fuselli Nel frattempo Si porta Presso due avversarie Poi il suggerimento In profondità Verso Pirone Che va a contendere La palla Roberta Dada Che con esperienza Si prende il fallo E questo è lo sguardo Di Valeria Pirone Lo sguardo che dice un po' tutto Linari Salta Pasini Ancora Linari Poi decide di affidare Il pallone a Rosucci Al Borghetti Ancora Rosucci Si va avanti per triangoli Williams Ancora Rosucci Si fa vedere Girelli Spostata a sinistra Mele va a prendersi Lo spazio dentro l'area Girelli Il gioco di gambe Il cross Anticipato a Sabatino Al Borghetti Il tiro col destro Di Criscio Prima di Sabatino E poi Harrison Abbiamo visto la grandissima abilità Di questa squadra Nel far passare il pallone Da una parte all'altra Ed è sicuramente La grande forza Di un collettivo Che gioca quasi a memoria E che riparte da Linari Rosucci In mezzo per Girelli Linari Perde il pallone Pasini Va a cercare Pirone Il pallone è respinto da Gama Ancora Pasini Va a lancio lungo Verso Pirone Non è il modo per servirla Infatti ha chiesto Un po' più di Di calma Valeria Pirone Alla sua giovane compagna E ricomincia il Brescia Con Williams Linari Lancio lungo C'è la copertura Da parte di Belfanti Il pallone che termina In fallo laterale Linari con le mani Viene a prendersi il pallone Mele Bruciata da Pasini Pasini Poi un tocco un po' Piccolo verso Bonetti Recuperà il pallone Comunque Ledri Bonetti per Fuselli Che però è da sola Si deve appoggiare Sulla terza Pallone lungo Verso Pasini Che va al contrasto Aereo Con Linari Che rimane Contusa a terra Colpita Alla schiena Difensore del Brescia Rivediamo In ritardo Pasini È andata comunque Allo stacco Allo stacco Sul Linari Che comunque Si è rialzata Colpi dolorosi Ma Che passano Abbastanza in fretta Gama Al Borghetti Rischia Perde il pallone Sul pressing di Fuselli Però poi C'è Gama In seconda battuta La profondità Verso Girelli Non c'è fuori gioco Squizzato Copre bene lo spazio E poi si prende Anche il fallo L'arte L'inquadrata Cressiana Girelli Vi vediamo Usa le braccia Girelli Per Andare a conquistare Il pallone Non si può fare La punizione Di la terza Il pallone Sulla destra All'Inari E qui anticipa L'avversaria Mele Perfezione al disimpegno E poi Williams È passata in vantaggio La Pink Bar In casa Sulla Rest Roma Il gol Di Romina Pinna Quindi Lex Torres In gol a Bitetto Sfida questa Fondamentale Soprattutto per Per le bianco-rosse Di Isabella Cardone Che devono fare Un attentico miracolo Per mantenere la categoria Quest'anno Mele C'è spazio Per Williams Sulla sinistra Pallone un po' lento Può coprire Belfanti Non ci arriva Pasini Rimessa laterale A centrocampo Per il Brescia Linari va recuperato Di questo pallone Siamo dentro Il trentottesimo Quindi ci stiamo Avvicinando All'intervallo Un risultato Confortante Per il Brescia Il pallone lungo Di Linari Per Williams Che non controlla E quindi adesso Con le mani Potrà andare Belfanti Di Griscio Controlla un po' così Riesce a mantenere Il pallone in campo Va Pirone Nello spazio Scivola Ma riesce comunque A prendersi il possesso Non trova Il cross Pirone Per L'opposizione Da parte di Dada Disimpegno Un po' rischioso Linari Qui Su Bonetti Anzi Rafuselli Bonansea Fa passare il pallone Michele però Si oppone bene Sbaglia la terza Il pallone lungo Verso Williams Williams Il tocco In profondità Su Sabatino Impreciso Non ha tagliato Qui Daniela Sabatino Pallone che comunque Era un po' Troppo potente Il rinvio di Carrison Colpo di testa Di Linari Poi Pasini A contendere Il possesso A Williams Si prende comunque La rimessa Al Verona Stiamo per entrare Negli ultimi 5 minuti Di questo primo tempo 2-0 per il Brescia Le rete di Mele Girelli Belfanti Vince il contrasto Ma poi perde Il possesso di palla Sabatino Linari Dada Non deve comunque Rischiare il Brescia Nel giocare il pallone Con troppa confidenza All'altezza dell'area Di rigore Qui Belfanti Solo per un attimo Prima di Sabatino Rosucci Spostato a sinistra Servita da Mele Rosucci Tenta lo scatto Bonetti Però è molto veloce Rosucci è costretto A fermarsi Si trova Girelli In posizione centrale Il passaggio di ritorno Rosucci non ne ha più E quindi sarà Rimessa dal fondo Per la GSM Verona Andiamo a bordo campo Beatrice Atteggiamenti opposti Per i due allenatori Milena Bertolini Continua a parlare Continua a dare indicazioni Alle sue giocatrici Sta chiedendo loro Di non giocare Con superficialità E di puntare Sempre la porta Per tentare Di incrementare Il proprio vantaggio Silenziosa invece La panchina Del Verona Scusa Beatrice Il suggerimento in mezzo Bonansea L'intervento Di Harrison Che salva ancora La porta Sarà quindi Calcio d'angolo Per il Brescia Pallone recuperato A metà campo Forse C'era un Un fallo su Fuselli Ma quello magari Lo rivedremo dopo Qui Bonansea Ha cercato Il tocco di fino Sotto l'incrocio Dei pali Harrison Ha fatto buona guardia Ancora un'occasione Per il Brescia Ancora un calcio D'angolo Andrà Bonansea Dalla bandierina Al Borghetti Girelli Sabatino Williams Il pallone in mezzo Il copio di destra Al Borghetti Pirone È andato a respingere Respinge anche La conclusione Da parte di Linari E Pirone Poi si lancia da sola In contropiede Cerca il dribbling Va a terra Non c'è fallo Girelli Cerca il suggerimento D'esterno Su Sabatino Che però è in fuorigioco Ma comunque Harrison È riuscita ad arrivare Su questo pallone Ecco l'inquadrata Daniela Sabatino Per chiudere Beatrice Ti volevo chiedere Ma sembra forse Un po' scoraggiato Longega Sì Longega Sembra assolutamente Scoraggiato L'unica che parla È la sua vice Comin Che stava dando indicazioni Poco tempo fa Fuselli La quale Non sta capendo Molto la sua posizione In campo Rispetto al centrocampo A 5 del Brescia E ha chiesto Indicazioni In merito Le ragazze del Verona Appaiono molto Comunque nervose E questo Sicuramente Non aiuta In questa situazione Attenzione Bonetti Il pallone in mezzo Grazie Beatrice C'è l'intervento Da parte di Linari Sarà rimessa laterale Dall'altra parte Questa è Paige Williams Match winner Della gara Della scorsa settimana Sul campo della Res Il cross di Belfanti Svirgolato Pirone Si spende Nell'andare a disturbare L'uscita Da parte di Marchidelli Che comunque Non ha problemi 42 e 20 Ci avviciniamo All'intervallo Rosucci Gama Dada ancora per Gama Pallone all'indietro Ancora per Roberta Dada Attaccata da Bonetti Dada non deve rischiare Appoggia All'indietro Sul Linari Pallone in mezzo Per Rosucci Evitato il Blando Comunque pressing Da parte del Verona Che adesso riparte La transizione Da parte di La Terza Che trova Il suggerimento in profondità Bonetti Palo Graziata Marchidelli Occasionissima Per rientrare In partita Per Tatiana Bonetti C'è stata la percussione Attenzione Non è finita Ledri Ancora per Bonetti Che vuole il sinistro Attaccato da Gama Lascia il pallone A Fuselli Liscio Da parte poi di Bonetti E Pirone Non trova poi il controllo Un lampo del Verona Al minuto 44 Può ripartire però La transizione del Brescia Con Mele Il pallone per Bonanzea Larga c'è Sabatino Viene servita Girelli è da sola Sulla sinistra Il suggerimento ancora Per Bonanzea Bonanzea Lo scontro con Di Criscio Non c'è nulla Per il direttore di gara Di Criscio poi Viene rimontata da Mele Che la fa fuori Parte il traversone Per Sabatino Manca l'intervento Ma c'è fuori gioco Tutto fermo Le proteste Non troppo vivaci Da parte di Daniela Sabatino Verona che comunque Stava rischiando l'audorete E quando Va in campo aperto Il Brescia è davvero devastante Perché apre completamente La difesa avversaria Non dando punti di riferimento In questo caso Girelli si era spostata Sulla sinistra C'era Mele In posizione centrale Partita che si è Improvvisamente Riaccesa nel finale Suggerimenti in profondità Bonetti 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 Si riapre la partita Al minuto 45 Con Tatiana Bonetti Il Verona non è morto Le campionesse d'Italia Non vogliono abdicare La rete di Tatiana Bonetti Che riapre la partita Al minuto 45 Rivediamo Il suggerimento di Fuselli Qui completamente disattenta La difesa del Del Brescia E Bonetti non ha lasciato Scampo a Marchitelli 2 a 1 E finisce qui Il primo tempo Proprio nel finale La rete di Tatiana Bonetti Questo è Renato Longega Che sicuramente Avrà di che riflettere Nell'intervallo Il suo Verona Comunque ha dimostrato Di avere qualche arma A disposizione Contro un Brescia Che forse Forse si sentiva Già la partita in tasca Saranno quindi 45 minuti Assolutamente da seguire 45 minuti di fuoco Dove il Brescia Dovrà cercare di mantenere Perché no Di incrementare il suo vantaggio Il Verona Invece Deve cercare Di fare di tutto Per non uscire Definitivamente Dalla lotta a Scudetto